Le metamorfosi della sinistra, dall'URSS alla NATO La contraddizione dei post comunisti che, criticando i cattolici contrari all'invio di armi all'Ucraina, sono passati dal difendere l'Unione Sovietica di Stalin all'essere contrari alla Russia di Putin, di Antonio Socci. Le metamorfosi di Ovidio Nulla rispetto alle metamorfosi dei comunisti italici, comprese le più recenti con le quali sono diventati i pasdaran dell'ortodossia atlantica, severi censori del pacifismo e predicatori umanitari. E questo senza mai riconoscere l'errore di essere stati comunisti al tempo dell'URSS di Brezhnev e Antropov. Anzi, ritengono di avere tutti i titoli per dare lezioni oggi di atlantismo e umanitarismo. Prendiamo l'editoriale di Walter Veltroni, il quale è una persona gentile, intelligente e piacevole, ma in quel pezzo ha cucinato un confuso minestrone in cui riesce a cantare le lodi del Nord Vietnam comunista che combatteva contro l'invasione straniera degli USA e, al tempo stesso, le lodi dei soldati USA che sbarcarono in Italia e in Normandia per combattere contro il nazifascismo. Non furono due invasioni per la libertà? Un inno combattente in cui Veltroni rinfaccia, senza nominarli, a Santoro e compagni, il passato, ma dimenticando il suo. E il suo non è il passato di uno qualsiasi. Veltroni è stato uno dei dirigenti nazionali del Partito Comunista Italiano quando ancora c'era l'URSS e il blocco comunista. La vicenda degli euromissili è di Comiso, è degli anni Ottanta e Veltroni c'era. Il PC era il partito fratello di quel PQS da cui vengono Putin e la classe dirigente russa di oggi. Quel PQS a cui obbediva il PC Togliattiano a lungo finanziato da Mosca. Da chi è stato parte della storia comunista ci si aspetta una riflessione vera sulla classe dirigente post-comunista che oggi governa a Mosca e sulle macerie lasciate dal comunismo. Prima di tuonare per tutto un editoriale contro la presunta indifferenza che Veltroni imputa a chi non condivide le sue attuali idee atlantiste sull'Ucraina dovrebbe spiegarci quanto fu indifferente il suo PC nei confronti degli orrori dell'URSS e dei regimi compagni. Negli anni 70, quando lui era un militante comunista, già sapevamo tutto. Già era uscito Arcipelago Gulag e sull'Unità e poi su Rinascita, nel febbraio 74, Giorgio Napolitano, a nome del PC, scriveva che l'espulsione del dissidente Solzinišan era la soluzione migliore perché lo scrittore aveva finito per assumere un atteggiamento di sfida allo Stato sovietico e alle sue leggi e non c'è dubbio che questo atteggiamento, al di là delle stesse tesi ideologiche e dei già abberranti giudizi politici di Solzinišan, avrebbe suscitato larghissima riprovazione nell'URSS. Napolitano, che allora si scagliava contro l'anti-sovietismo, è il simbolo autorevole del passaggio dal PC filo-sovietico, lui fu dirigente del PC al tempo di Togliatti, all'atlantismo più zelante, ma senza mai fare autocritiche. Nella sua autobiografia politica, nel 2005, intitolata Dal PC al socialismo europeo, neanche cita mai Solzinišan. Carlo Ripa di Meana, nel 2008, alla morte dello scrittore russo su Critica sociale, in un articolo intitolato Solzinišan e il silenzio del Quirinale, scriveva Avevo sommessamente suggerito, qualche mese fa, al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che nel 1974, allora responsabile della cultura del PC sull'unità, aveva rumorosamente applaudito all'esilio commiato a Solzinišan, che, va ricordato, aveva già passato otto anni nel Gulag dell'immediato dopoguerra, che in una prossima occasione, o in forma privata, o nel corso di una visita di Stato, chiedesse un incontro a Solzinišan, ormai molto in là con gli anni e malato, per chiudere una pagina nera. Così non è stato. In questi ultimi giorni, mentre in tutto il mondo si sono ascoltate voci di statisti, di rimpianto e di riconoscenza per la grandezza di quest'uomo e della sua vita, da Roma Quirinale è venuto un silenzio arido, privo di umanità. Veltroni, nel 2008, era il segretario del PD. Si espresse mai sulla vicenda? E' sicuro che la storia dei postcomunisti, di cui è parte, oggi legittimi i suoi moniti umanitari sulla presunta indifferenza altrui? Oltretutto è un'accusa inaccettabile, perché chi si oppone all'invio di armi, come i cattolici, lo fa perché vuole la pace per gli ucraini, e lo fa dando loro ogni possibile aiuto umanitario. Del resto, bisogna anche non essere indifferenti ai costi pesantissimi che i bellicisti vorrebbero imporre agli italiani. Quando si ha un tale passato comunista, certamente si può evolvere e cambiare, ma bisognerebbe almeno evitare di andare a fare prediche agli altri sull'indifferenza, l'Occidente e la libertà. Il Corriere della Sera, che oggi è guidato da giornalisti che vengono dall'unità, a cominciare dal direttore, si distingue per fanatismo occidentalista. Telleyard, che di cambi di casacca era esperto, consigliava «surtus patrour de l'Ezelle», anche perché si rischia il cortocircuito. Un intellettuale progressista francese, Robert Redeker, di recente ha osservato «La simpatia degli europei è legittimamente attratta dall'Ucraina e dalla sua resistenza all'invasione, mentre questa resistenza esprime tutto ciò che gli europei hanno rifiutato negli ultimi decenni, quella cultura alla moda ridicolizzata e che l'istruzione scolastica ha cercato di distruggere il sentimento della nazione, l'amore per la patria, della terra, il senso del sacrificio militare, la difesa dei confini, la sovranità e la libertà». E' anche questa la contraddizione dei post-comunisti italici. sono passati dall'apologia del cosmopolitismo apolide all'esaltazione del nazionalismo ucraino. Ma il nazionalismo non è lo spirito nazionale, come la polmonite non è il polmone. Il nazionalista impone la sua patria sulle altre, il patriota ama tutte le patrie. «È legittimo e nobile che gli ucraini si difendano dall'invasore, ma non si può esaltare quel nazionalismo ucraino che dal 2014 ha combattuto le regioni russofone. Somiglia al nazionalismo russo che oggi nega l'Ucraina. Patrie non nazionalismi». «È legittimo e nobile che gli ucraino parla». «È legittimo e nobile che gli ucraini si riuscì era il caso». «È legittimo e nobile che gli ucraino sia il caso di cui la risposta».